ma tutto in fretta la punizione subito conclusione da fuori in difficoltà con la parata baldassarre riesce comunque a metterla in calcio d'angolo primo squillo però del marocco sempre per alouane che pensa alla stafilata e mezzo intervento così così e si divora il gol del 1 a 0 il marocco che opportunità grande errore però 4 il colpo di testa di falciatori bella palla intanto di pudu l'olato in aerea di rigore alza la testa la mente sempre per pudu radnayaka con un miracolo e poi si salva il marocco allontanando il pallone il numero 9 che però non passa sul terzo avversario ma falciatori e bravo di forza a tenere permette però ne basso dentro asta in ritardo nata l'inacca non l'ha toccata dice l'arbitro allora sarà rinvio apertura di e il quadri acri tiro in porta di acri che conclusione pallone di poco alto parte il pallone al limite dell'aria cerca di controllarlo pudu poi serie di contrasti conclusione palo sul fondo era tutto buono battuta in questa posizione battuta adesso per tec tac che però calibra malissimo questo cross che di fatto però stava per sorprendere baldassare sul secondo palo pallone che sfira l'incrocio taman finisce così il match è 0 a 0 tra italia e marocco il marocco chiude primo il girone a l'italia chiude a quattro punti come l'etiopia